Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Nella notte, un'imponente scossa tellurica di magnitudo 5 ha scosso il territorio dell'Uzbekistan, gettando l'intera regione nell'agitazione. Le informazioni più recenti provengono dal Ministero delle Emergenze del Paese e sono state riportate dalla fonte affidabile della TASS. L'evento sismico ha avuto luogo alle 3.57 del mattino, quando molte persone erano ancora immerse nei loro sogni. L'epicentro di questa violenta manifestazione della natura è stato individuato a incredibili 1995 chilometri a sud-ovest di Almaty, situato in una profondità di 15 chilometri sotto la superficie terrestre. In questo momento, l'attenzione è rivolta al benessere delle persone e alla situazione delle comunità colpite. Tuttavia, le informazioni iniziali non forniscono dettagli su eventuali vittime o danni materiali. La situazione resta fluida e in evoluzione, con i soccorsi e le autorità locali che lavorano instancabilmente per valutare la portata dell'impatto e fornire assistenza dove necessario. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa situazione in evoluzione.